100 kg di pasta, 120 litri di latte e 50 di biscotti. Sono queste le derrate alimentari consegnate stamattina nel Salone del Carmine dal presidente dell'Associazione Orazio Capurro Amore per la Vita Onlus Alessandro Capurro al responsabile della Caritas parrocchiale Gianni Misuraca alla presenza del parroco della Chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo di Sciacca Don Angelo Luca Restivo. Derrate alimentari destinate alle famiglie che avversano in condizioni di disagio economico. Un'iniziativa benefica, l'ennesima che la Onlus Capurro ha potuto effettuare questa volta grazie all'erogazione libera fatta a sua volta dalla professoressa Maria Antonietta Catalano Bono, autrice di un libro di poesie, quello dal titolo Rime Spicciole, presentato lo scorso mese di ottobre al Circolo e il Corallo di Sciacca e più recentemente anche alla Festa dell'Olio di Luca Sicula. Libro che, sebbene distribuito gratuitamente e presente, ha visto i beneficiari lasciare un'offerta libera che la scrittrice ha voluto raccogliere e donare all'Associazione Capurro, la quale, in vista delle festività natalizie, ha acquistato generi alimentari destinandoli alla Caritas. Siamo grati come comunità ecclesiale insieme e unitamente alla Caritas parrocchiale per questa bella iniziativa promossa dall'Associazione di Orazio Capurro che promuovono questa attività di solidarietà neanche caritative nei confronti delle persone bisognose. Abbiamo colto con grande gioia questa generosa donazione da parte dell'Associazione per finanziare l'acquisto di alimenti, soprattutto in un periodo natalizio, per consentire che i nostri fratelli bisognosi abbiano anche, non solo il necessario, ma anche abbiano qualcosa in più in questo contesto natalizio per vivere adeguatamente il Natale che l'attende. Noi dell'Associazione Orazio Capurro, Amore per la vita Onlus, siamo ben lieti di dare una mano di aiuto alla Caritas parrocchiale della Chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo perché in questo modo desideriamo dare una mano di aiuto anche alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico, proprio con l'approssimarsi delle festività natalizie e anche il nostro modo per poter stare accanto a queste famiglie, sempre per stare accanto a loro nell'importante missione che portano avanti sia il referente, il dottore Gianni Misuraca che il parroco Don Angelo Luca Restivo e insieme a tutti i volontari per dare una mano a chi è bisognoso e a chi vive dei momenti di difficoltà.